Se dovessi scegliere una parola che racchiude la natura del trading, sarebbe paradosso. Disastri emozionali e finanziari sono frequenti nei traders perché molte delle prospettive, delle attitudini e principi che nella nostra vita di tutti i giorni sarebbero assolutamente sensati e funzionali hanno l'effetto opposto nell'ambiente del trading. Semplicemente non funzionano. Ogni trader si sta prendendo un rischio quando entra in un trade, ma questo non significa che stia accettando quel rischio. In altre parole, tutti i trade sono pericolosi perché il risultato finale è solo probabile, non certo, ma la maggior parte dei trader è convinta di non star correndo questo rischio quando entrano in un trade. Hanno accettato veramente il fatto che il trade ha un risultato finale non garantito ma solo probabile? Inoltre hanno accettato tutte le possibili conseguenze? La risposta è molto spesso no. Se non sei capace di fare trading senza il minimo disagio emozionale, nello specifico la paura, allora non hai ancora imparato ad accettare i rischi inerenti al trading. Questo è un grosso problema perché il livello a cui non si accetta il rischio è lo stesso livello a cui si eviterà il rischio. Tentare di evitare qualcosa che è inevitabile avrà degli effetti disastrosi sulla tua abilità di fare trading con successo. Imparare ad accettare veramente i rischi è difficile in ogni ambito, ma è estremamente difficile nel trading, specialmente considerando cosa c'è in palio. Di che cosa abbiamo più paura in generale? Ad eccezione di morire e parlare in pubblico, sicuramente perdere soldi e sbagliare sono entrambi in cima alla lista. Il trading ci presenta un paradosso fondamentale. Come facciamo a rimanere disciplinati, focalizzati e sicuri di fronte all'incertezza costante? Quando avrai imparato a pensare come un trader, questo è esattamente quello che riuscirai a fare. Imparare come ridefinire le tue attività di trading in un modo che ti faccia completamente accettare il rischio è la chiave per pensare come un trader di successo. Imparare ad accettare il rischio è una delle competenze del trader. È la competenza più importante che puoi imparare. Penso di non riuscire ad esprimere la differenza tra chi vince con continuità e tutti gli altri più semplicemente di così. I migliori trader non hanno paura. Il 95% degli errori che fai nel trading, che ti fanno letteralmente sparire i soldi davanti agli occhi, provengono con ogni probabilità dall'atteggiamento che hai riguardo al sbagliare, perdere soldi, perdere un'occasione e lasciare i soldi sul tavolo. Con quest'ultimo si intende chiudere un trade troppo presto. Queste sono quelle che chiamo le principali 4 paure di un trader. La dura, fredda realtà del trading è che ogni trade ha un risultato non sicuro. Quindi hai due scelte. Puoi provare ad eliminare il rischio imparando quanto più puoi sulle variabili che influenzano il mercato. Io lo chiamo il buco nero dell'analisi ed è il sentiero che porta alla massima frustrazione. Oppure puoi imparare a ridefinire le tue attività di trading in un modo in cui accetti veramente il rischio e non avrai mai più paura. Il trading è un'attività che offre alle persone un'illimitata libertà di espressione creativa. Una libertà di espressione che è stata negata alla maggior parte di noi per tutta la vita. Per operare in maniera efficace nell'ambiente del trading abbiamo bisogno di regole e limiti che guidino il nostro comportamento. È un semplice fatto che il trading abbia il potenziale di farci dei danni enormi. Danni che possono essere molto più gravi di quanto possiamo lontanamente immaginare. Ci sono molti tipi di trade in cui il rischio di stop loss, di perdita è illimitato. Persino il gioco d'azzardo ha nella sua struttura delle regole che lo rendono molto meno rischioso rispetto al trading. Nel trading infatti nessuno, tranne te stesso, ti obbligherà a decidere in anticipo quale sarà il tuo rischio. In effetti siamo di fronte a un ambiente senza limiti dove virtualmente tutto può succedere in ogni momento e solo chi vince con continuità definisce in anticipo il rischio di ogni trade. Per tutti gli altri definire in anticipo il rischio ci mette di fronte alla realtà che ogni trade ha un risultato finale solo probabile, il che significa che potrà finire in stop loss. Tutti i giochi d'azzardo hanno degli specifici inizi, sviluppi e finali basati su una sequenza di eventi che determina il risultato del gioco. Nel momento in cui decidi di partecipare non puoi cambiare idea, sei dentro per la durata del gioco. Questo è non vero nel trading. Nel trading i prezzi sono in movimento costante. Niente comincia fino al momento in cui lo decidi. Dura per quanto vuoi e non finisce fino a quando non decidi che debba finire. A prescindere da quello che puoi aver pianificato o voluto fare un certo numero di fattori psicologici entrano in gioco quando sei a mercato, quando sei dentro un trade e ti fanno diventare distratto, ti fanno cambiare idea, aver paura o essere troppo sicuro. In altre parole, questi fattori ti fanno comportare in modo erratico e non intenzionale. Visto che i giochi d'azzardo hanno una fine formale forzano i partecipanti ad essere dei perdenti attivi. Se sei in una serie perdente, non puoi continuare a perdere senza prendere una decisione cosciente di continuare a farlo. La fine di ogni partita causa l'inizio di una nuova e devi attivamente mettere più denaro a rischio aprendo il portafogli o spingendo un po' di cip al centro del tavolo. Il trading non ha una fine formale. Il mercato non ti tirerà fuori da un trade a meno che tu non abbia la struttura mentale appropriata per finire un trade nel modo che è sempre il migliore per i tuoi interessi. Quindi puoi diventare un perdente passivo. Questo significa che quando sei in un trade perdente non devi fare niente per continuare a perdere non devi nemmeno guardare, puoi anche ignorare la situazione e il mercato si prenderà tutto quello che possiedi e anche di più. Le ragioni per cui siamo attratti dal trading prima di tutto l'illimitata libertà di espressione creativa è la stessa ragione per cui sentiamo una resistenza naturale a creare il tipo di regole e limiti che possono giudicare in modo appropriato il nostro comportamento. È come se avessimo trovato la terra di utopia in cui abbiamo libertà completa e poi qualcuno ci desse una pacca sulla spalla e dicesse Ehi, devi crearti delle regole e non solo, devi avere anche la disciplina per rispettarle. Durante la sessione di trading la realtà è che se vuoi creare consistenza di risultati devi partire dalla premessa che sarai completamente responsabile. Non importa quale sarà il risultato questo è un livello di responsabilità a cui poche persone hanno aspirato prima di decidere di diventare traders. Quando tradiamo senza un piano ben definito è molto facile prendersi il merito per i trades che sono riusciti. Allo stesso tempo è molto facile evitare la responsabilità per i trades che non sono andati come volevamo. Avremo la tendenza a sviluppare un trading casuale non strutturato perché vogliamo evitare di assumerci la responsabilità. I traders di successo hanno praticamente eliminato gli effetti della paura e della sconsideratezza dal proprio modo di tradare. Eliminare la paura è solo metà dell'equazione l'altra metà è la necessità di sviluppare un meccanismo di freno. I trades eccellenti i trader eccellenti hanno imparato che è essenziale avere una disciplina interiore o un meccanismo mentale che permetta loro di agire contro gli effetti negativi dell'euforia o della troppa confidenza che è causata da una serie di trades vincenti. Per un trader vincere può essere estremamente pericoloso se non si è imparato a monitorarsi o a controllarsi. Devi imparare da solo come ricavare quello che vuoi dai mercati. Il primo grande passo in questo processo di apprendimento è assumersi completa e assoluta responsabilità. Assumarsi la responsabilità significa credere che tutti i risultati che otteniamo sono generati da noi stessi che i risultati sono basati sulle nostre interpretazioni delle informazioni che arrivano dal mercato sulle decisioni che prendiamo e sulle azioni che ne conseguono. Assumersi meno che la completa responsabilità fa emergere due grandi ostacoli psicologici che bloccano il successo. Prima di tutto si stabilirà una relazione da nemici con il mercato che finisce per escludere dal costante flusso di opportunità. Poi si penserà erroneamente che i problemi nel trading e la mancanza di successo possano essere cambiati tramite l'analisi di mercato. La realtà di fondo per la quale il trader principiante studia il mercato è per vincere il mercato per provare qualcosa al mercato e a se stesso e soprattutto per evitare che il mercato lo ferisca ancora. Non studia il mercato semplicemente come un mezzo per trovare un modo sistematico per vincere ma piuttosto come un mezzo per evitare il dolore o dimostrare qualcosa che non ha niente a che vedere con il guardare il mercato da un punto di vista obiettivo. Non se ne rende conto ma nel momento in cui assume che sapere qualcosa sul mercato possa prevenire dal provare ancora dolore o lo possa aiutare a soddisfare la sete di vendetta o ancora gli possa permettere di dimostrare qualcosa è condannato ad essere un perdente. Non potrà mai credere di aver fatto qualcosa di sbagliato nel voler dedicarsi ad imparare. Il problema è che l'ha fatto per le ragioni sbagliate. Non riuscirà a tradare in modo efficace se sta tentando di dimostrare qualcosa. Se devi vincere se devi avere ragione se non puoi perdere o non puoi avere torto percepirai molte informazioni che ti dà il mercato come dolorose. In altre parole vedrai come dolorosa ogni informazione generata dal mercato che è opposta a ciò che ti farebbe felice. Tutti capiscono la natura dell'evitare il dolore fisico. Se si mette accidentalmente una mano su una piastra infuocata la mano si allontanerà dal caldo automaticamente. È una reazione istintiva. Tuttavia quando si tratta di evitare il dolore emozionale e le conseguenze negative che crea specialmente ai traders pochissime persone capiscono la dinamica sottostante. Le nostre menti hanno molti modi per metterci a riparo dalle informazioni che abbiamo imparato a percepire come dolorose. Per esempio ad un livello conscio possiamo razionalizzare giustificare trovare argomenti per restare in un trade perdente. Alcuni dei modi più comuni sono parlare con amici traders guardare indicatori che non usiamo mai tutto con lo scopo di raccogliere informazioni non dolorose per negare la validità dell'informazione dolorosa. Ad un livello inconscio le nostre menti automaticamente altereranno distorceranno o escluderanno specificamente alcune informazioni dalla nostra consapevolezza. In altre parole non ci renderemo conto che i nostri meccanismi che di solito ci evitano il dolore ci stanno nascondendo o alterando le informazioni che ci sta invece dando il mercato. Imparare di più sul mercato solo per evitare il dolore aumenterà i problemi perché più si impara più naturalmente si pretende dal mercato rendendo ancora più doloroso quando il mercato non fa la sua parte. Si crea involontariamente un circolo vizioso dove più si impara più si diventa delusi più si diventa delusi più ci si sente obbligati ad imparare. Il ciclo continuerà fino a quando non si lascerà il trading per disgusto o si riconoscerà che la causa fondamentale dei problemi relativi al trading è la prospettiva e non la mancanza di conoscenza sul mercato. La mia definizione di attitudine vincente è questa un'aspettativa positiva dei propri sforzi con l'accettazione che qualsiasi risultato si otterrà rifletterà perfettamente il proprio livello di sviluppo e che cosa invece bisogna imparare meglio. Il problema con molti trader è che pensano di avere già un'attitudine vincente mentre non ce l'hanno o che il mercato sviluppi l'attitudine per loro dando loro dei trades vincenti. Ognuno è responsabile per lo sviluppo della propria attitudine vincente il mercato non lo farà per te e voglio enfatizzare questa cosa più che posso nessun tipo di analisi di mercato aiuterà nel crearsi un'attitudine vincente se non se ne ha già una. Se vuoi cambiare i tuoi risultati da un'equity erratica a una che cresce costantemente il primo passo da fare è assumersi la responsabilità e smettere di aspettarsi che il mercato possa dare o fare qualcosa per te se decidi di farlo da questo punto in avanti con tutto te stesso il mercato non potrà più essere il tuo avversario e se smetti di combattere il mercato che in fondo significa che smetti di combattere te stesso sarai impressionato da quanto velocemente riconoscerai esattamente quello che hai bisogno di imparare e quanto velocemente lo imparerai assumersi la responsabilità è la pietra angolare dell'attitudine vincente ok abbiamo illustrato brevemente come le nostre menti sono legate all'evitare il dolore fisico ed emozionale se si trada con la prospettiva di tentare di ottenere quello che si vuole o ciò che ci si aspetta dal mercato cosa succede quando il mercato non si comporta in modo da realizzare le nostre aspettative il tuo meccanismo di difesa mentale si attiva per compensare la differenza tra quello che vuoi e quello che non stai ottenendo in modo da non provare dolore emozionale le nostre menti sono progettate per bloccare automaticamente tutte le informazioni minacciose o per trovare un modo per oscurare tale informazione in modo da metterci al riparo dal disagio emozionale che sentiamo naturalmente quando non otteniamo quello che vogliamo non te ne accorgerai nel momento in cui accadrà ma sceglierai le informazioni coerenti con ciò che ti aspetti così da mantenere uno stato mentale senza dolore tuttavia nel processo di tentare di mantenere questo stato mentale senza dolore ti escluderai dal flusso di opportunità ed entrerai nel regno del potrebbe potrebbe essere avrebbe dovuto sarebbe dovuto se avessi tutto quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto e che al momento appariva invisibile poi diventa dolorosamente evidente a fatti compiuti quando l'opportunità se n'è andata da tempo per essere consistente devi imparare a pensare al trading in un modo in cui non sarai più soggetto a processi mentali consci o inconsci che oscureranno bloccheranno o faranno scegliere le informazioni solo sulla base di ciò che ti permetterà di essere felice darti quello che vuoi o comunque evitarti il dolore la minaccia del dolore genera paura e la paura è la causa del 95% degli errori che fai ora potrai chiederti come faccio a pensare al trading in un modo in cui non sarò più soggetto a processi mentali che oscurano o bloccano le informazioni la risposta è semplice impara ad accettare il rischio accettare il rischio significa accettare le conseguenze dei tuoi trades senza disagio emozionale o paura questo significa che devi imparare come pensare al trading e alla tua relazione con il mercato in un modo in cui la possibilità di sbagliare perdere mancare un'occasione o lasciare soldi sul tavolo non causino l'attivazione dei tuoi meccanismi di difesa mentale che ti tireranno fuori dal flusso di opportunità non ti gioverà per niente assumerti il rischio di entrare in un trade se hai paura delle conseguenze perché le tue paure agiranno sulla tua percezione delle informazioni e sul tuo comportamento causandoti alla fine proprio quell'esperienza che temi di più quella che stai cercando di evitare come si può rimanere confidenti e senza dolore quando sei assolutamente certo che puoi sbagliare perdere soldi mancare un'occasione o lasciare soldi sul tavolo come hai visto la paura e il senso di disagio sono assolutamente giustificati e razionali ognuna di queste possibilità diventa reale nel momento in cui si comincia ad interagire con il mercato tuttavia per quanto tutte queste possibilità siano reali per ogni trader quello che non è lo stesso per ogni trader è che cosa significhi sbagliare perdere soldi mancare un'occasione o lasciare i soldi sul tavolo non tutti hanno gli stessi atteggiamenti a proposito di tali possibilità e quindi non tutti condividono le stesse sensibilità emotive in altre parole non tutti hanno paura delle stesse cose potrebbe sembrare ovvio ma vi assicuro che non lo è la maggior parte dei trades presuppongono che i migliori traders la maggior parte dei traders presuppongono che i migliori traders abbiano paura di sbagliare perdere soldi mancare un'occasione o lasciare soldi sul tavolo esattamente come loro stessi presuppongono che i migliori traders riescano in un qualche modo a neutralizzare le loro paure con un'eccezionale quantità di coraggio nervi d'acciaio e autocontrollo come molte altre cose sul trading quello che sembra assolutamente sensato non lo è sicuramente uno o tutte queste caratteristiche possono essere presenti in ognuno dei migliori traders ma quello che non è vero è che tali caratteristiche giochino un ruolo nelle loro performance superiori avere bisogno di coraggio nervi d'acciaio o autocontrollo implicherebbe un conflitto interno in cui una forza è usata per contrastare gli effetti di un'altra ogni livello di lotta tentativo o paura associato con il trading ti tirerà fuori dal momento presente e dal flusso e quindi diminuirà i tuoi risultati è qua che i trader professionali si separano dalla massa quando accetti il rischio come fanno i professionisti non percepirai nulla che può fare il mercato come una minaccia se niente ti minaccia non c'è ragione di aver paura se non hai paura non hai bisogno di coraggio se non sei sotto stress perché avresti bisogno di nervi d'acciaio e se non hai paura del tuo potenziale tanto da diventare sconsiderato perché hai dei meccanismi di monitoraggio appropriato allora non avrai bisogno di autocontrollo prendiamo l'esempio del primo incontro di un bimbo con un cane il cane o è cattivo o ha una brutta giornata in ogni caso appena il bimbo è abbastanza vicino il cane lo morde l'attacco è così violento che il cane deve essere tirato via di forza dal bambino ora quale sarà l'effetto di un ricordo così negativo sulla percezione del bimbo nel momento in cui incontrerà un altro cane la risposta è così ovvia che sembra perfino ridicolo chiederlo ma le implicazioni sottostanti non sono così ovvie chiaramente nel momento in cui il bimbo viene in contatto con un altro cane proverà di nuovo paura notate che ho usato la parola altro per descrivere il successivo cane con cui entra in contatto voglio sottolineare che ogni altro cane farà sentire paura al bimbo non importa che sia lo stesso cane o un altro ok ogni nuovo cane che lui incontrerà proverà paura tutti noi abbiamo vissuto situazioni in cui qualcuno aveva paura quando dal nostro punto di vista non c'era nessun tipo di pericolo o minaccia per quanto magari non l'abbiamo detto esplicitamente abbiamo pensato che quella persona si stava comportando irrazionalmente e se avessimo provato a far notare perché non c'era nessun motivo di aver paura con ogni probabilità avremmo visto che le nostre parole avrebbero avuto poco o nessun effetto potremmo facilmente pensare la stessa cosa del bimbo del nostro esempio che si sta comportando irrazionalmente perché chiaramente dal nostro punto di vista esistono altre possibilità oltre quella su cui sia focalizzata la sua mente ma la sua paura è meno razionale la sua paura è più o meno razionale rispetto alla nostra quando dobbiamo entrare in un trade e l'ultimo e l'ultimo trade è stato uno stop loss mi spiego meglio usando la stessa logica un top trader direbbe che la tua paura è irrazionale perché questo nuovo momento non ha assolutamente niente a che vedere con l'ultimo trade ogni trade ha solo un risultato probabile ed è statisticamente indipendente da ogni altro trade se credi il contrario capisco anche perché hai paura ma ti posso assicurare che le tue paure sono completamente infondate come vedi la percezione del rischio di una persona può essere percepita come irrazionale da un'altra il rischio è relativo ma per la persona che lo percepisce in un preciso momento sembra assoluto e fuori questione uno dei tuoi obiettivi principali come trader è di percepire le opportunità disponibili e non la minaccia del dolore per imparare come stare focalizzato sulle opportunità devi sapere e capire con assoluta certezza la fonte della minaccia non è il mercato consideriamo uno scenario in cui gli ultimi due o tre trade sono stati dei loss stai guardando il mercato e le variabili che usi per selezionare le opportunità sono presenti ok quindi hai segnali per entrare a mercato invece di eseguire immediatamente il trade esiti il trade ti sembra molto rischioso così rischioso che cominci a pensare se sia veramente un'opportunità come conseguenza comincia a raccogliere informazioni che supportano il perché questo trade non funzionerà ok se cambio lo scenario e gli ultimi due o tre trade sono stati dei take profit invece che degli stop loss avresti percepito il segnale in modo completamente diverso giusto l'avresti percepito come un'occasione di vittoria più che nel primo scenario avresti aspettato per entrare in questo trade probabilmente no in effetti se sei come la maggior parte dei trader avresti addirittura pensato di caricare ancora di più con il lottaggio su questa posizione ok in entrambi i casi quindi in entrambi gli scenari il mercato ha generato lo stesso tipo di segnali ma il tuo stato mentale all'inizio era negativo e in pre dalla paura e quindi ti ha causato il focalizzarti sulla possibilità di un fallimento che ha causato di conseguenza l'esitazione nel secondo caso invece non hai quasi percepito il rischio se riesci ad accettare il fatto che il mercato non ha la caratteristica di generare informazioni positive o negative allora l'unico motivo per cui tali informazioni possono sembrarti positive o negative è nella tua mente è una funzione di come sono processate le informazioni nella tua mente in altre parole il mercato non è la causa del tuo focalizzarti sul fallimento o sul vincere quello che causa la tua percezione è lo stesso inconscio processo mensale che ha causato al bimbo la percezione del secondo cane come minaccioso e pericoloso anche se quel cane era super giocoso e amichevole un trader di successo cosa deve fare tradare senza né troppa paura né troppa sicurezza percepire quello che il mercato sta offrendo secondo la sua prospettiva stare completamente focalizzato nel flusso di opportunità nel momento presente entrare spontaneamente nella zona ok in the zone c'è una forte e virtualmente incrollabile convinzione in un risultato incerto con un vantaggio a nostro favore ok mi spiego meglio i migliori trader sono evoluti al punto in cui credono senza la minima ombra di dubbio che tutto può succedere a tal proposito solo i migliori traders predefiniscono regolarmente il loro rischio prima di entrare in un trade solo i migliori trader tagliano le loro perdite senza riserve o esitazioni quando il mercato dice loro che il trade non sta funzionando e solo i migliori trader hanno una gestione organizzata sistematica che permette loro di prendere profitti quando il mercato va nella direzione del loro trade non predefinire il tuo rischio non tagliare le tue perdite e non prendere sistematicamente profitto sono i tre errori più comuni e più costosi che puoi fare solo i migliori trader hanno eliminato questi errori dal loro trading il trader tipico non predefinisce il rischio non taglia le sue perdite non prende sistematicamente profitto perché il trader tipico pensa che non sia necessario stabilendo invece la convinzione che tutto può succedere il trader allenerà la sua mente a pensare in termini di probabilità questa è di creare lunga il più essenziale e più difficile principio da afferrare e da integrare effettivamente nel proprio sistema mentale ecco un paradosso interessante i casino fanno profitti costanti giorno dopo giorno e anno dopo anno sfruttando un evento che ha un risultato completamente casuale allo stesso tempo la maggior parte dei traders crede che il comportamento del mercato non sia casuale ma nonostante questo non riescono a produrre profitti con continuità quello che i proprietari dei casino i giocatori d'azzardo professionisti e i migliori traders capiscono è che risulta difficile da capire per il trader tipico è questo che anche un evento con risultati solo probabili può produrre dei risultati consistenti se si riesce ad avere la probabilità a proprio favore e se il campione degli eventi è abbastanza grande i migliori traders trattano il trading come un gioco di numeri in modo simile a come i casino e i giocatori d'azzardo professionisti si approcciano al gioco d'azzardo per fare un esempio prendiamo il blackjack nel blackjack i casino ha circa il 4.5% di vantaggio sui giocatori basandosi sulle regole del gioco questo significa che su un numero di partite abbastanza grande il casino genererà profitti di 4,5 centesimi per ogni dollaro che viene giocato quello che i proprietari dei casino e i giocatori professionisti capiscono sulla natura della probabilità è che ogni singola mano giocata è statisticamente indipendente da ogni altra mano questo significa che ogni mano è un evento unico il cui risultato è indipendente e casuale rispetto all'ultima mano o a quella successiva se ci si concentra su ogni singola mano ci sarà una distribuzione casuale impossibile da prevedere tra le mani vincenti e quelle perdenti ma dal punto di vista collettivo è esattamente l'opposto se le mani giocate sono abbastanza grandi in numero emergeranno degli schemi ripetitivi che produrranno dei risultati continuativi prevedibili e statisticamente affidabili è questo che rende così difficile pensare in termini di probabilità richiede credere in due cose che di primo acchito sembrano contraddittorie la prima cosa la chiameremo livello micro quindi il singolo trade a questo livello devi credere nell'incertezza e nell'imprevedibilità di ogni singola mano sei consapevole della verità di questa incertezza perché ci sono sempre un numero di variabili sconosciute che influenzano la partita ad esempio non puoi sapere in anticipo come gli altri giocatori giocheranno perché possono decidere di chiedere o rifiutare le carte addizionali per esempio tutte queste variabili non possono essere controllate in anticipo e renderanno il risultato di ogni singola mano incerto e casuale il secondo livello invece lo chiameremo macro quindi quello dei trade a lungo termine a questo livello devi credere che il risultato globale di una serie di partite giocate è relativamente certo e prevedibile il grado di certezza è basato sulle costanti del gioco che sono dati in partenza e che sono specificamente progettate per dare un vantaggio a un lato invece che ad un altro queste costanti sono le regole del gioco l'abilità di credere all'imprevedibilità del gioco a livello micro e simultaneamente alla prevedibilità del gioco a livello macro che fa il successo dei casino e dei giocatori d'azzardo professionisti la convinzione nell'unicità di ogni partita evita loro di impegnarsi nell'inutile esercizio di tentare di prevedere il risultato di ogni singola mano hanno imparato completamente ad accettare il fatto che non sanno che cosa succederà nel futuro e ancora più importante hanno capito che non hanno bisogno di saperlo per poter fare dei soldi in maniera continuativa siccome non sanno cosa succederà nel futuro non pongono nessun significato speciale emozionale o altro ad ogni singola mano in altre parole non sono gravati da un'aspettativa irrealistica su che cosa sta per succedere il loro ego non è coinvolto in un modo che gli faccia sentire il bisogno di avere ragione la verità è che è più facile per loro stare concentrati sul tenere le probabilità in loro favore ed eseguire senza errori questa strategia piuttosto che concentrarsi sulla singola mano perché sanno che se il loro edge il loro vantaggio è abbastanza buono e le mani giocate sono in numero abbastanza grande alla fine ne usciranno vincitori un flusso costante di variabili note e ignote creano insieme un ambiente probabilistico dove non sappiamo con certezza che cosa succederà nel futuro nel piccolo ma sappiamo cosa succederà nel futuro nel macro questa frase sembra piuttosto logica ma c'è un enorme problema che non è né logico né ovvio essere consapevoli dell'incertezza e capire al tempo stesso la natura della probabilità non è uguale ad avere l'abilità di far funzionare efficacemente una strategia pensare in termini di probabilità può essere difficile da padroneggiare perché le nostre menti non elaborano naturalmente le informazioni in questo modo perché pensi che i traders perdenti sono ossessionati dall'analisi di mercato ricercano disperatamente quel senso di certezza che l'analisi sembra dare loro per quanto in pochi siano disposti ad ammetterlo la verità è che il trader tipico vuole avere ragione in ogni singolo trade sta disperatamente cercando di creare certezze dove semplicemente non esistono il trader tipico non definisce il rischio di entrare in un trade prima di entrare perché non crede che sia necessario e l'unico modo in cui può avere l'arroganza di pensare che non sia necessario è perché crede di sapere cosa succederà nel futuro il tipico trader si autoconvince di avere ragione prima di entrare nel trade perché l'alternativa avere torto è semplicemente inaccettabile ricorda che le nostre menti sono progettate per associare quindi come conseguenza avere torto in un trade ha il potenziale di essere associato con ogni altra esperienza della vita del trader in cui ha avuto torto l'implicazione è che ogni trade può scatenare il dolore accumulato ogni volta che ha avuto torto in vita sua dato l'enorme accumulo di energia negativa che ci circonda nella maggior parte delle persone la maggior parte delle persone con il pensiero di aver sbagliato è facile capire perché ogni trade può letteralmente significare per un trader tipico una questione di vita o di morte i traders migliori invece vedono correttamente il trading come un gioco di probabilità la loro reazione emozionale al risultato di un trade è equivalente alla relazione alla reazione che il trader tipico avrebbe se tirasse una monetina prevedendo che esca a testa e invece esce croce una scelta sbagliata ma per la maggior parte delle persone sbagliare la previsione del tiro di una moneta non scatena il dolore accumulato di tutte le altre volte in cui si è sbagliati nella propria vita perché perché la maggior parte delle persone sa che il risultato del lancio di una moneta è casuale per pensare in termini di probabilità devi creare una struttura mentale che sia coerente con i principi fondamentali di un ambiente probabilistico un atteggiamento mentale probabilistico relativo al trading consiste di 5 verità fondamentali 1 tutto può succedere 2 non hai bisogno di sapere cosa succederà nel futuro per poter fare soldi 3 c'è una distribuzione casuale tra i profit e i loss per ogni insieme di variabili che definisci un vantaggio 4 un vantaggio non è nient'altro che l'indicazione di una probabilità maggiore che una cosa succeda rispetto ad un'altra 5 ogni momento nel mercato è unico a questo punto il lavoro da fare è imparare a far diventare queste verità delle convinzioni ad un livello funzionale un livello funzionale è quello in cui trovi te stesso operare naturalmente in uno stato mentale sereno percependo esattamente quello di cui hai bisogno e operando senza esitazioni o conflitti interni quello che separa i grandi atleti e performer da tutti gli altri è la loro mancanza di paura di sbagliare la ragione la ragione per cui non hanno paura è che non hanno nessuna ragione per diminuire la considerazione in se stessi quando fanno un errore cioè non hanno un serbatoio di energia negativa pronto a traboccare e a piombare sul loro processo mentale come un leone che aspetta il momento giusto per piombare sulla propria preda principi della consistenza nel trading di un trading profittevole 1 definisco obiettivamente il mio vantaggio quindi intendo definire il mio proprio metodo il mio sistema la mia strategia 2 predefinisco il rischio in ogni trade 3 accetto completamente il rischio oppure non entro nel trade 4 applico il mio vantaggio quindi la mia situazione di probabilità senza riserve e senza esitazioni 5 prendo profitto quando il mercato mi rende disponibile dei soldi 6 monitoro continuamente la mia tendenza a fare errori quindi mi miglioro continuamente 7 capisco l'assoluta necessità di questi principi per arrivare al successo continuativo e quindi non li violo mai di questi che mi 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 Grazie a tutti.